Fausti con gusto ma per tutti i gusti quindi non solo doppiette sovrapposti ma anche Dea Express due parole anche su quest'arma Barbara sì quest'anno allo show show abbiamo presentato la nostra nuova Dea Express è disponibile in due varianti nella versione argento vecchio nella versione tartarugata facciamo tutti i calibri europei in questo caso un 9,3 x 74 r e diciamo viene fatta sulla bascula del 20 in modo che il cliente possa possa anche ordinare una canna calibro 20 per un altro utilizzo si tratta anche in questo caso di un'arma molto molto carina a mio avviso abbiamo fatto un'incisione semplice elegante e è incisa totalmente a mano e abbiamo appunto studiato un'arma come dicevo prima semplice ma nel contempo elegante anche estremamente maneggevole mi sembra sì è molto è molto leggera se parliamo di due chili e nove e come sempre è molto bilanciata sempre stile pausti l'eleganza anche nella scelta dei legni vedo e la cura dei dettagli quindi si ripetono anche per questo calibro a livello balistico abbiamo una canna di 60 centimetri e viene fornita con la prova di rosata 50 metri abbiamo un sistema di regolazione che abbiamo studiato nostro che ci permette appunto di garantire anche nel tempo la balistica dell'arma grazie